La vivacità e i contrasti del Novecento sintetizzati in cinque itinerari culturali, ciascuno legato a una parola simbolo. L'Osservatorio per il Centro Storico di Napoli propone alla città un ciclo di seminari per esplorare la complessità del secolo breve che ha visto nascere diritti e idee oggi considerati irrinunciabili. Questo secolo che è stato sicuramente caratterizzato da due forme di dittatura abiette, il fascismo, il nazismo, ma anche in qualche modo lo stalinismo, ma è anche il secolo dei diritti e questo forse viene spesso dimenticato. Noi abbiamo voluto con questo percorso di democrazia mettere in rilievo che il Novecento è stato il secolo dei diritti. Egemonia, giustizia, resistenza, innovazione, autodeterminazione sono le cinque tracce d'indagine per comprendere meglio le radici del pensiero contemporaneo. Il primo incontro dedicato a Gramsci venerdì 26 febbraio al complesso di San Domenico Maggiore, mentre gli altri incontri si terranno uno al mese nel Palazzo Comunale di Via Verdi. Il mio intervento è dedicato all'autodeterminazione. In realtà tutto il percorso degli itinerari culturali nel centro storico di Napoli attraverso il Novecento si basa su una serie di parole chiave, dei percorsi di emancipazione, ma anche del modo come la letteratura può essere un veicolo di riscatto, di riscossa sociale, appunto di autodeterminazione delle persone, dei soggetti sociali e collettivi. È una delle grandi matrici intorno a cui il Novecento storico e culturale è venuto maturando e uno dei vettori attraverso il quale veicola ad appunto il messaggio significativo e importante che in qualche modo vogliamo riprodurre. Il centro storico di Napoli, forse a differenza degli altri centri storici, non è entrato nella lista dell'UNESCO esclusivamente per le sue bellezze monumentali, ma è entrato anche per i suoi abitanti e per la sua cultura. Tutte le lezioni sono a ingresso libero.